buongiorno siamo siamo abbiamo il pc a fianco per seguire i commenti eventualmente di chi chi verrà stamattina noi siamo mattiniere quindi già fare fare le 10 è stato insomma è abbastanza tardivo per noi vabbè comunque chiamo a price e e crea intimo solo ricominciamo voglio essere solo sicura che parta anche dal pc no no perché così non mi distraggo ok ce l'ho anche sul computer apposto ricominciamo da capo buongiorno siamo io sono claire claudia in questa live sarà in italiano ovviamente nella nostra lingua ma abbiamo deciso di mettere il gioco in inglese in modo che casomai qualcuno lo volesse seguire parla un'altra lingua può comunque in qualche modo seguirlo siamo due cosplayer e quindi ci siamo presentate come cara per zlaco e e cara x 400 allora ci teniamo a fare delle doverose premesse la prima è quella più importante cioè spoiler in questa live non è una blind run non lo è per nulla anzi ne abbiamo giocato rigiocato questo gioco tantissime volte abbiamo già completato il gioco non solo platinandolo ma proprio al cento per cento per cento per cento intendiamo questo si il gioco l'abbiamo no volevo far vedere cosa intendiamo al cento per cento c'è scritto alla cento per cento ah no volevo far vedere il diagramma e sono parecchi diagrammi sono tanti quindi ci teniamo con questa live a essere liberi di parlare di qualsiasi scena si voglia di qualsiasi bivio di qualsiasi idea possa essere nata in seguito fino alle insomma insomma in poche parole quindi questa è una live fatta in onore al videogame più bello che credo abbia mai giocato specie nell'ultimo periodo in quanto già di nostro che ci piacciono le storie psicologiche con delle morali per di più a scelte molte e con finale molte che detroit in questo è immenso immenso davvero è una storia che ci è piaciuta in tutto in quanto ci è piaciuto come videogiocatrici ci è piaciuto come cosplayer ci è piaciuto specie a lei come disegnatrice insomma dire che ci siamo in fissa dal 2018 dire poco visto che la prima live ufficiale ci facciamo delle autodomande com'è l'attata è cominciata la tua esperienza con detroit become human beh la mia esperienza con detroit become human è iniziata quando mia sorella mi ha proposto di dare un'occhiata a un wall trout che si trovava su internet all'epoca e già visto il primo episodio abbiamo detto no si deve comprare in verità una nostra amica ci ha preceduto se lo ha regalato per il compleanno che veniva in quei giorni quindi l'abbiamo avuto immediatamente dopo aver espresso il desiderio di provare questo titolo già avendo sbirciato qualche pubblicità grazie Chloe e quindi è iniziata la nostra esperienza con questo gioco e niente io devo dire che devo tornare molto indietro negli anni a dire quale gioco mi ha emozionato così tanto torniamo indietro ai fan al fantasy per capirci ai fai dell'optil si dello spessore della storia insomma vabbè del gioco noi siamo un po appassionate dei retro game quelli che oggi si chiamano retro game ovvero playstation 1 e playstation 2 dei giochi moderni ancora niente c'era particolarmente colpito forse solo devil within all'epoca di vol within detroit è stato il primo che ci ha fatto di nuovo riavvicinare anche ai giochi nuovi tra trama personaggi il contesto colonna sonora interpretazione è un insieme che rende questo gioco un fiore all'occhiello proprio poi a parte il gioco è proprio un'esperienza di vita ecco vale la pena giocarlo solo per le tematiche che propone ecco secondo me ma non solo è proprio la possibilità che hai di immergerti nella storia nei suoi personaggi cioè tu puoi scegliere che orientamento far prendere alla storia le tue scelte influenza parlando poi anche del gameplay noi vorremmo prendere la scusa del gameplay anche per parlare un po del gioco però se ci piacerebbe anche proporre qualche avendo completato il gioco al cento per cento se c'è qualche bico alternativo che qualcuno ha la curiosità di vedere noi sarebbe bello anche scegliere anche assieme che tipo di approccio avere al gioco allora io ci tengo essendo la prima volta che decidiamo di portare dall'inizio alla fine un videogioco ci terrei quindi a mostrare uno un titolo che ci piace ma secondo il bivio che noi riteniamo canonico e c'è quello pacifico quindi comunque questa partita sarà orientata verso la salvezza di tutti e tre personaggi parlo dei tre personaggi non dei personaggi invece secondari e orientata chiaramente ad un orientamento pacifico con la finale della libertà degli android ovviamente per il resto come ci arriviamo qualche cosa la possiamo anche personalizzare lì rispetto alla nostra idea cioè quello che vorremmo fare con questa live è mostrare detroit se fosse un film eventualmente come andrebbe secondo loro in questo modo con ovvio con anche il buona la prima ecco anche perché poi perché pacifista perché secondo me lo schiaffo morale definitivo delle macchine e che sono più umane degli uomini quindi secondo me la cosa che rende per esempio marcus grande e quando fino all'ultimo resiste veramente fino all'ultimo ma c'è da dire che prima o poi una bella live rivoluzionario un connor che indaga e un marcus trattato d'antagonista si farà per te piace sarebbe bello proporre le varie le varie i vari bivi perché qua i bivi sono veramente tanti altro che una settimana di live non basterebbe facciamo nuova storia e nuova storia sia cominciamo con cara e cara e con la la nostra mascotte il piccolo conno eccolo lì detatti prima che cominci io sono spaccata un po in due perché per me la scena di daniel potrebbe racchiudere già tutta la storia che poi di trovi camion andrà affrontare però ci sono dei bivi interessanti che non vengono proposti spesso nei in play ed ecco di qua la cara famiglia la felice a piccola parentesi io non ho mai buttato nessun mio computer neanche quelli vecchi di dieci anni io non butto gli android a piccola parentesi qualunque run ne faremo questa cosa si farà sempre anche con un connor che è un vero terminator noi salveremo sempre il pescetto l'unica cosa la prossima volta nella live non lo mettere trasparente perché effettivamente a me infastidisce un poco vedi noi ma abbiamo fatto che la schermo la schermata è trasparente io credo che dobbiamo andare dritti dal capitano allen ci sono delle idee in realtà si già qui possiamo mostrare i nostri primi segni di devianza secondo noi connor è stato è deviante fin dal primo momento perché una macchina progettata per empatizzare e capire e leggere una situazione fuori delle spiegazioni ragiona è deviante allora io direi codice di disattivazione poi il comportamento è il comportamento è il comportamento dicendo perché in realtà in questo capitolo come diceva prima la nostra cara può essere racchiuso già l'intera storia perché completare questo capitolo in tutte le sue sfumature finali ma anche se la scena di Daniel viene sempre riproposta ovviamente la famosa scena di Daniel che viene sparato ma proprio i discorsi che fa quello che scopri ehm quello sguardo merita perché è tutto di troito per me bagno 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 il bellissimo bagno ah noi non guarderemo le riviste perché le abbiamo già viste chiaramente ma ah sì perché nel suo piccolo pochi si fermano a mirare il bagno di questi questi ricconi allora voi dovete sapere che noi quando giocavo videogame la prima cosa che facciamo è cercare il gabinetto ma pure se prenotiamo in un albacco sempre il bagno e la colazione cioè guarda sta bimba che che ha la faccia a me fa venire 8-9 anni questa bambina e già tiene questa stanza allucinogena non fa venire l'altro io non potrei stare in una stanza del genere un abbraccio a tutti i simon sfortunati di questo video game eh i simon no è un modello sfortunato no no e gli altri indizi non è finita finito cioè ci sono le cuffie a terra devi scoprire che la bambina non ha sentito niente avevo nella mente il povero una mia personale interpretazione ma penso anche condivisa è che per me Connor non mente mai nel bene e nel male quindi io voglio fare vorrei fare che raccogli la pistola ma glielo dici se raccolgo la pistola si glielo dico adesso si mette una cosa per volta ma esaminiamo perché in questo punto bisogna essere eh la spalla bisogna essere più vabbè quello che è poi mi piace proprio la diagnosi che fa ecco l'emoraggia del pollumone superiore e questa quella mortale vabbè chiaro trauma mortale su 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 e come se mi pare qui qui giù di là di là sali sali eh più a sinistra scusa non mi hai capito a sinistra giù qui dovrebbe essere più su qui entro solo a me lo so ma io lo sapevo mi chiedevo chissà che mi doveva si no no non l'ho trovato ti volevo aiutare questo è un momento in fila si si voglio parlare perchè questo poi è il bello di di tronzo no ma io credo che se non entri in empatia con la storia ma al di là se sei pro contro gli android che sono vivi ma se non entri in questo dramma già con questo primo capitolo allora noi purtroppo avendo davanti la telecamera è probabile che il joystick non prenda bene due eh ah poi questo è un video che ho visto il tempo è limitato un dettaglio che notò il dettaglio che notò un ragazzo su twitter qui abbiamo un parorama di quello che sta succedendo ora fuori sono una x400 provo questa iniziativa di Kone un poverino il nostro lagamma il nostro pure la scappa della bambina anche perché se non siamo veloci non ci fa analizzare tutto infatti penso che di Kone si debba giocare più e più volte prima di riuscire a completare anche le cose più semplici la voglio anche un po' godere però io penso che Kone per ruolare qualcosa dici per così dire in character eccolo la scappa della bambina questo è il giro che è piatto vedete la pistola si, voglio fare proprio tutta la stagna ok per me Conor è deviante la pistola la potrebbe anche allora diciamo è questo qui c'è un conflitto Conor segue gli ordini e quindi non raccoglie però lui dimostra durante la sera di prendere la pistola quindi io la prenderei no no io pure la prenderei cioè però come detto tu rivelerei al diante perché noi comunque non vogliamo perché qui c'era l'avvertenza scritta che gli android non possono usare le armi il la scarpina e il sangue e poi c'era il sangue a fuoco se riusciamo c'erano anche dei colpi d'arma da fuoco nella cadessa di noi la nostra prima assaggiata questo è preso da Terminator 3 non mentite Terminator 3 lui è il TX la bellissima la TX come lo fa lei dove sono i proietti se dobbiamo provare a vederli? se non sbaglio sono quelli vicino al vetro se non sbaglio questi? o questi? no 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 poi guarda e se non sbaglio sono quelli vicino al vetro sulla sinistra se non sbaglio sulla sinistra se non sbaglio poi che scannerizzare? non so ne potete prendere il assaggio ok no penso che abbiamo visto tutto no tranquillo ma Nenu tu non puoi andare vicino con il 100% eh va bene penso che possiamo andare Don't come any closer or I'll jump No no please I'm begging you Go 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 Hi Daniel Hi My name is Connor How do you know my name? Allora noi possiamo in questo momento pilotare Noi che essenzialmente vogliamo salvare la bambina e salvare il poliziotto Ah, c'è un'altra cosa, assieme al pescetto la gente si salva a pescindere Sì, intendo che le nostre unit e classi Calma Rassi guarda Per me è una verità Anche perché basta anche un blecco proprio per dimostrarvi Tu e Emma I know you and Emma were very close You think she betrayed you, but she's done nothing wrong She lied to me I thought she loved me But I was wrong She's just like all the other humans Daniel, no He's losing blood If we don't get him to a hospital, he's going to die All humans die eventually What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet I'm going to apply a tourniquet You don't touch him Touch him and I kill you You can't kill me I'm not alive Impossibile qua insomma They were going to replace you And you became upset That's what happened, right? I thought I was part of the family I thought I mattered But I was just their toy Something to throw away when you're done with I'm going to play a tourniquet I know it's not your fault These emotions you're feeling are just errors in your software No It's not my fault I never wanted this I loved them You know But I was nothing to them Just a slave to be ordered around I can't stand that noise anymore To tell that helicopter to get out of here What do you want to do with this? I would like it The last chance I'm your last chance, Daniel If you let it slip, they'll kill you Let the hostage go You have no other choice I want everyone to leave And I want a car When I'm outside the city I'll let her go Eh Compromesso O sacrificati Che fa? Signor Perché non hai risposto? Perché non hai risposto? Aspettavo che tu dici Io pensavo che facevamo il vivo Che avevamo concordato It's my turn to decide L'importante è che l'abbiamo salvata Quello era la cosa che mi premeva In realtà noi avevamo scelto un altro bivio Prima dietro le quinte Volevamo fare la scena in cui lui scatifica E tirava la bambina Ma Daniel lo avrebbe sparato Avevamo scelto questa immagine Ma il bello di Detroit è che E comunque per quanto conosci Ho un invidio a cosa porta Le emozioni lì per lì Mentre ci giochi Aspetta Perché mi sta dicendo Questo è il diagramma della scena? Non dovevo mettere nuova partita No come non dovevo mettere la partita Quello ti salva Che tu l'hai completato Sicuro? E vedi che ci stanno tutte le scelte fatte Non è mica bianco Ok Continua allora Quello che stavo dicendo appunto E che per quanto uno possa aver completato il gioco Conoscere in vivi Conoscere cosa ce n'è Pilotare Le emozioni e i tempi di reazione In questo gioco fanno Purtroppo è così in questo gioco Puoi prevedere cosa fare Ma fino a 80 Io volevo ottenere il 100% Per questo ho deciso di prendere questo Io volevo fare il mio impito fondo Per questo ci sono le mani E qui il mio cartone Eccolo qua Come si ha macchine Che vendono macchine Sì lo qui Farò finta di me Eh sì Infatti noi riflettavamo su questo Che è interessante vedere una macchina Che vende le altre macchine Lo so lo so L'hai detto però L'hai detto Ci stavo riflettendo Anche perché noi ormai abbiamo affidato Tutto alle macchine Non ci ricordiamo a momenti Nemmeno il nostro compleanno Se non ce lo ricorda Il telefono E il prezzo da pagare Però che a un certo punto Chi avrà più bisogno dell'uomo Se affidiamo tutte le macchine Ed ecco la condizione di povertà Di Troye Bicam Infatti Daniel Daniel Mi sto all'intro Di Cara ora Per me racchiude Toccolto di Troye Bicam No vabbè ma io se dovessi dire Cosa ti è piaciuto di più Di questo videogioco Ma io direi Che videogioco Non è sbagliato definirlo solo videogame Questo Cioè Di Troye Bicam È proprio un'esperienza Che tu fai Un'esperienza di vita Un'esperienza di scelta Un'esperienza morale Anche immorale Perché il fatto che sia un videogame Che ti permette quindi Di ripetere la partita Teoricamente Tutte le volte che vuoi Ti fa comunque interrogare Anche sulla vita Quindi quello che tu scegli Tra il bene Il male E l'indifferenza Perché anche l'indifferenza È una scelta Come avete potuto vedere Noi lì per lì Visto che siamo due giocatrici Ci siamo interrogate Su che fare Perché io davo per scontato Che lei avrebbe fatto Sacriticati Lei non ha premuto Perché è stata un attimo indecisa Ed ecco che l'indecisione Purtroppo mi ha sviato Non ottenere il certo No però Ti ha voluto mostrare Che l'indecisione È una scelta Quindi in questo Detroit Insomma è emozionante Cioè ovviamente ti porta a dire Fai le tue scelte È una cosa che ti porta Dall'inizio Alla fine Esci da Detroit E piano piano Ti fa lo zoom Su Cos'è questo 2013 Mi piace come piano piano Si va sempre Dalla super tecnologia Alla periferia Anzi È proprio una bella È già si gratta È il temporale Che inizia ad arrivare Il tempo sta cambiando Sì È Amanda molto Ho visto che c'è Una seconda persona Ciao Grazie per essere venuto Siamo al Ma la chat è abilitata Devi premere quella freccettina No così la levo Comprimi Chat nel video Sì No io devo Che nessuno può scrivere Non è che abbiamo disabilitato la chat Puoi modificare No c'è un messaggio Eh ma io non lo posso vedere Forse è stata disabilitata la chat Perché tu hai messo Includi messaggi No ora che ci penso Non c'è la chat La puoi rimodificare C'è la Ecco qua Ah ok ok Faccio un messaggio di prova Devi cliccare sulla parte grigia Claudia l'è levata Non si scrive Sì 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 Sono a distanza per non calparmi Vedi pure questo povero signor anziano In realtà Sono tutti assistiti dalle macchine Ora I bambini giocano con le macchine Il prato è sistemato dalla macchina La babysitter è una macchina E poi l'uomo è povero Ovviamente Ma il problema è che Ecco il personal trainer è una macchina In realtà io trovo questo 2038 molto credibile Per me è una tacita Ma neanche tanto tacita Proprio di inizia sociale Poi ci sono Se leggi i giornali Le rock band sono delle macchine I medici sono delle macchine Hanno creato Hanno proprio la microtecnologia Delle cellule che vanno Nel sangue umano E sempre macchine Poi anche le api Si sono estinte in questo mondo Andiamo a rompere le palle Povero Tizia Noi vogliamo quel dannato dog Dalla nostra prima raga Dammi la dog Io faccio la fila Sono una persona Ma il nostro Matus Il bello si sente Tengo a dire che io sono visita con Jack E tutto E siamo al 26 luglio Che bello Che bello il prezzo è lì Io non ho mai assaggiato un breccello Non è vero Ma io te li faccio vedere i clienti Signori Il leader di vita Il non è ancora leader Lo so che gli doggio affianco Qui c'è una grande empatia su Marcos Perché pure io e lei Se dobbiamo scegliere qualcosa da mangiare Stiamo come dei cani A fissarlo Così Andiamo da bellino No 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 Devo prima parlare Lo voglio ascoltare E poi voglio ascoltare E poi voglio ascoltare Il demonio Per esempio Personalmente parlando Io adoro la chitarra acustica Mi piacerebbe saberla suonare Ma se vero Penso che Per esempio Marcos Si arriva dei soldi Per ascoltare musica con anima L'anima Non è una cosa Che appartiene alla carne È una cosa che nasce Qui l'anima può averla chiusa Io robot, Blade Room Sì è vero è vero Specie io robot che poi tra l'altro ho visto di recente Quindi c'è tantissimo E anche Terminator Non ci dimentichiamo Terminator Parliamo di quando Marcos si rialza senza l'occhio No ma proprio il concetto quanto l'uomo può essere macchina E quanto la macchina può essere uomo E' un concetto che... Ma anche in Eccolibili finale L'altra volta mi vedevo il finale in cui Marcos decide di prendere fuoco Ora non ricordo il film Ma mio padre mi disse questa è una citazione a un film Però mi devo far dire da lui qual era il titolo Guarda che se ci fai arrabbiare potremmo anche Potremmo anche sai la bomba sporca è sempre lì Marcos ci fa mettere le mani in coltia a noi uomini Create un Marcos e fate lo politico Ci vuole Marcos perché ne facciamo schifo La disegnatrice che in me rossica Che si sta Ma tu ti rendi conto? Noi l'abbiamo detto Prima... Ah quindi voglio dire un aneddoto su Christopher Bosch Puoi entrare Siccome noi seguiamo alcuni dei prestavolto Gli attori Gli attori di Detroit Become Human Eccolo Su divertente che Christopher Bosch postò questa immagine Che è l'attore e il volto dietro il nostro Gerry Dicendo hai esperienze nel campo appunto come commesso? Lui smingò questa foto In realtà Guarda che bello Ragazzo simpaticissimo Gessetti Sì, tutte le cromie Anche perché il disegnatore Sa alla differenza di tutti questi punti di verde Per il comune mortale Questo è verde No No C'è il verde Il verde acido Il verde acido Verde chiaro Verde scuro Verde prato Vabbè Sì Vabbè Torniamo a noi Identification Però costano eh Costano Costano Eh però Costano maleditta Eh però Costano 63,99 dollari Non è proprio poco Eh vabbè Però Karl lo fa per mettere Quindi ci sta perfettamente Ma che arriveremo al capitolo di Karl Ci tengo a dire che lui è stato il mio primissimo personaggio preferito Poi ne siamo anche un po' figlie d'arte Nostro nonno era un pittore Quindi quando abbiamo visto Karl Esteticamente qualcosa c'è anche Sì Faccio vedere pure una foto Sì Eh vabbè Ad esempio pure le mosse Non si poteva fare quando Marco si diventava deviante Non è che se la meriti tanto Chi quello? Eh loro pure ti mandano a quello Almeno non tutti Qualcuno sì però Più avanti c'è anche un sushi bar Ma per fare Non una run di due ore Bruciarcela così Sì ma noi ci siamo sbirciate tutti Tutti No invitiamo un po' tutti a E vedi sono poveri ogni In ogni piazza Vedi le persone che sono Qual è la maglia che gli sta da Dio? Scusami Chi? A lui? Chi sta parlando? Uno ha detto quella maglia che sta da Dio? Voglio vedere Ecco la saga E possiamo già avvirare qualche personaggio Che incontreremo qui avanti Almeno il modello Questo è uno dei negozi che Il nostro caro Simon Sempre un saluto al povero Simon Per me lui non è il PL 400 o 200 Ora non lo ricordo Per noi lui è Simon Qualcuno poi ha ipotizzato che quest'uomo E la sua compagna Siano gli stessi Che poi nel caso in cui Cara deve prendere l'autobus per il Canada Hanno il bimbo Lei è lo stesso model è vero? Lui no Lui non è lo stesso model L'altro è più diciamo castigato È il più tipico uomo d'affari Dall'estetica Vabbè ma è che in questo gioco I model dei personaggi di sfondo In questa cosa di sfondo Stealer Take him out of here Yeah You need to go anywhere We're gonna fuck your bitch ass up Yeah Waste it Do it All right It's enough Leave it alone Let us teach this bastard a lesson Damage it I'm gonna have to find you Nel mito di gioco in particolare l'entravista nel personaggio di Alice E anche nel rapporto tra Max e Carl Allora nel caso di Alice Cioè ci sono più riferimento chiaramente Ad Alice nel paese delle meraviglie Per il fatto che lei comunque passa Dall'età infantile A dover crescere attraverso l'esempio degli adulti E tante immagini Controverste per così dire Di Pinocchio Fammi ci ragionare Per il fatto di vedere il personaggio che diventa umano Immagino che intendi In questo ci può anche stare Perché no Io mo devo riconoscere che a parte il cartone animato della Disney E il film che fece Roberto Benigni Non ho visto altro di Pinocchio Quindi non conosco l'opera originale Beh Pinocchio vuole sempre far vedere come letteralmente l'uomo si costruisce Se lo vogliamo prendere simplicamente Sì è la crescita del personaggio Però lì è più qualcosa relativo alle facce Quasi più come il bambino che diventa sempre più scolpito Anche smalizzato Perché poi la vita è fatta di scelte E per vivere bisogna a un certo punto plasmarsi letteralmente Quel tronco deve diventare un uomo alla fine Potrebbe Però qui noi parliamo di qualcosa di un po' più Già di una fase in realtà secondo me successiva Siamo netti di Freud Qui non si tratta di costruire un'anima Qua si tratta proprio di dare una moralità proprio all'uomo Sì ma Detroit fa molto più riferimento Siamo onesti all'epoca in cui c'era razzismo per le persone di colore Detroit fa visibilmente riferimento a quel periodo storico Tutte le ingiustizie perché l'uomo è pieno di valori incredibili Tutte le comodità Poi parliamo di un 2038 Ma continua a inciampare negli stessi errori che faceva mille anni fa E li fa anche nel 2038 Io penso a come erano trattati gli schiavi Come erano trattate le persone di colore Ma schiavi, uomini, donne, bambini Ebrei Eh, però parliamo una alla volta Come erano state parlati gli ebrei Quello, io penso che La similitudine che c'è tra l'olocausto che c'è stato Ne è meno tanti anni fa E Detroit Siamo lì Siamo lì Specie se consideriamo la ruta di Cara In certi finali Per esempio qui Guardi il panorama Ti rendi conto che Todd non solo vive Una catapesia Ma stanno anche costruendo una superstrada Quindi tra poco Quindi tra poco lui perde anche la casa Poi Cara è stata appena formattata Ma secondo noi Cara è destinata sempre a diventare deviante Anche perché Cara è del 2000 Eccola qua la nostra Cara Nel 2032 in realtà Cara è nata E secondo noi anche perché abbiamo sempre dato un po' per buono Il trailer di Orion È sempre quella Cara Per noi sì Per noi Cara è stata deviante tante di quelle volte E se è stata distrutta tante di quelle volte Perché in realtà sarebbe stato interessante vedere Cara prima di Detroit become a woman E se qualcuno si chiede Allora perché incontri quella che canta nella discarica Abbiamo una teoria anche su quello Poi ne parliamo quando ci arriviamo Ecco Perché secondo noi Cara fa parte di Un progetto è un progetto più grande Comunque voglio spendere due paroline mentre tu fai le pulizie Robottino Robotto Il nostro migliore amico è laggiù Sì perché noi Ah la nostra teoria è che Todd sia un tastista Lo diciamo perché lì c'è il poster di un tastista Eccolo Secondo noi è stato un tastista Business class Secondo me sì può essere Comunque Ma Todd si vede che era uno Allora volevo spendere due parole su Todd Prima di tutto c'è da dire che Ah io sono la X400 che è uscita col robottino Nella nostra teoria Cara è stata Più un giorno già Sono la X400 Quella che è uscita col Con il robottino in omaggio No comunque dicevo che Todd Pulisci Voglio prima rompere le palle No C'è stia Prima di tutto Quasi tutti gli attori Di Detroit Hanno Forse per difesa anche al personaggio Non hanno fatto altro che dire Che l'attore che interpreta Todd È una persona deliziosa Ma Todd è una figura difficile Perché tutto sommato è negativo Molto 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 negativo E chi ha minimamente Sentito parlare di violenza domestica Lui è uno stereotipo In questo uno stereotipo Molto negativo Però c'è da dire che Siccome non merita di morire Il motivo per cui noi Non prenderemo la pistola Sebbene le scene di Cara Con la pistola Sono bellissime nel capitolo No Non Quello che è Quello che ha detto Eh vedi fa pure Però io credo che lui In realtà Todd non può Sopra maledettamente No lui è un Gli hanno tolto la figlia Ha perso la moglie Quando lo rincontri Alla stazione degli autobus Cosa che la moglie è andata via La moglie è andata via Ha perso la figlia Ha perso il lavoro Sta perdendo la casa È tossicodipendente Non è una giustificazione Non è una giustificazione Sta ascoltando Mi piace questa bimba Che in realtà è molto curiosa Infatti assieme a Connor Che è fatto per empatizzare Con i uomini Mi verrebbe bene Benissimo o no Però è vero Se ci fosse No Volevo dire Che secondo noi Connor è potenzialmente Un deviante Fin dall'inizio Proprio perché lui deve avere Capacità decisionale E auto Deve essere Deve autogestire Le sue scelte insomma Una macchina Che quindi è dipendente A livello di pensiero Devi ansa dietro l'angolo Ecco Vabbè ma E Alice secondo me Un po' la stessa cosa Perché doveva sembrare Una bambina Quindi avere Una forte empatia Con l'ambiente Provare dolore Provare dolore Felicità Piangere Quindi che anche lei Venisse a un certo punto Presa dalle sue emozioni Ecco secondo me Bambini E detective Sì probabilmente Sono su modelli Che sono stati creati Con un alto tasso Di devianza Se vogliamo metterlo In questi termini Usciamo fuori Ve lo farei piatti Eh usciamo Prima fuori Facciamo da Ciao robottino E al ritorno Facciamo il fatto Della droga Perché secondo me Cara deve Gian usare Questa Cioè io dico Tu c'hai un giardino Noi in Italia Penso che nessuno Ha un giardino Come questo E curalo Il cestino ci vuole Cioè lascia stare Che è trascurato Ma la casa potenzialmente È bella Infatti è lui Che non ha saputo curarla Perché per quanto La puoi lasciare in mano Infatti prima Si stava parlando Di Todd È vero che lui Ha perso Todd Però questo poi È il problema Delle persone Che a un certo punto Rimangono ingabbiate Nel loro stesso dolore Non reagiscono Comunque alla vita E sprofondano Sempre più in basso E' questo che rende lui Comunque un personaggio negativo No no Ma lui non è giustificabile Possiamo apparecchiarla Come voi Non è giustificabile Gioco Quello che vuole Almeno sono belle tutte le fasi Però una seconda chance Se la meriterebbe Perché alla fine Forse è stato anche abbandonato In questo senso Forse Il discorso è ampio E contraddittorio Così come abbiamo notato Che c'è una giraffa Un po' in tutti i capitoli inizia Solo da Connor Non l'abbiamo trovata Perché c'è la cara C'è la Carl Ovviamente Quella giraffa gigantesca Per me è un riferimento Alla Stovaz Però Non lo so Ma la Stovaz Non avrebbe senso Non è stato prodotto da loro Sì sì Però ci possono essere le cuzze Magari loro sono fan di la Stovaz E mi farebbero bene No io penso che sia qualcosa Chissà 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 Tra di loro Magari Sentite Sentite È bello Andata Vedi C'è 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 T-Z-U-M Vorrei dirti Caro Todd Che sei tu che l'hai lasciato Nella polveri Ma noi ipotizzammo Che l'ha messo nel detersivo Per non farlo sentire I cani polizioni Sì però se io devo fare i panni Mi dici di fare il bucato E poi lasci la roba Dove io devo fare le cose E poi non te la prendere con me Connor No mi fumare la testa Lava i piatti Io in realtà dietro le piatti Te le lascio sotto No Non voglio farlo No io li puoi lavare i piatti È in ordine di colpezzo Sì Devi fare i soldi Per esempio qui sarebbe stato divertente Se diceva elaborazione No enough money No enough cash Stranger No enough cash Alessi Devalis Non ti sedeva anche qua Forse Ah ecco Bimba Poveri Non sto vedendo l'iPad Sta leggendo Prendi Ah forse il giornale Sì sì E non puoi più sparecchiare Scusami Ah no puoi sparecchiare Ed è scomparsali Vediamo se c'è ora Sì vabbè Piccoli bug crescono Ma non sono un bug Per l'amor del cielo È un gioco studiato Nei minimi dettagli Infatti Cosa vuole comprare Latte Uova E Milk Tomatos Dai andiamo a fare questi piatti Mi ricordo Qui c'è un aneddoto di famiglia Siccome qualche capitolo L'abbiamo giocato In compagna di nostra madre Nostra madre Vedendo come cara Fa i piatti Ha detto Che non le piaceva Infatti Io Ero No Come fai biancini 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 Perché mia madre Convinta Che i piatti si fanno Riempendo la vaschetta Con l'acqua Invece non li passavo Come li fa lei Cioè Un po' d'acqua Ma poi direttamente Con la spugna E il sapone Quindi no Noi siamo da conto con cara Come fai biancini No E mi sembra Io non ho Più Vabbè Noi siamo anche Con le fissime Non c'è La lente È la lente Per contrarsi La bamba Sì sì Ovviamente Come tutte le persone Che hanno una dipendenza Magari i soldi Entrano anche Ecco la giratina Però Vengono usati Nel modo Sbagliato Poi bisogna dire Che per esempio Chi ci gioca La prima volta Rimane molto sorpreso Della cattiveria Dell'uomo Nel parlare Ma voi spesso Non ce ne rendiamo conto Ma noi siamo Abbastanza Caffonazzi Come parliamo Invece Sono tutti educati Qualunque cosa accada Perché sono programmati Per essere impeccabili Vedi quando diventano Ah aspetta Aspetta La partita di hockey Chiara è fan dell'hockey A me piacerà Ma quello ha fatto Anziché dirmi Ma chiediti Vediti la partita Io se avessi Degati una birra Anche tu E aprimi una birra Se io avessi un android Sarebbe la mia migliore amica O la mia Pienso che sarebbe Don No Però non lo so Alla fry Bender Ma tu sei sicuro Di volere un robot Per amico Sì Da quando ho 5 anni No io penso che se Fosse Avessero un costo Andiamo Dai Abbiamo ancora tante Una cata Una cata Una cata Pueblo C'è traccia di pueblo Qui dentro Ecco la Alice Presta Guarda che belle finestre Ce l'avessi una finestra come questa È bellissima A me piace Diamo un nome al pupazzo Io ho anche una volpe di peluche D'infanzia Quindi per me è popona In ogni caso è popona Dopo la prendo popona Ciao robottina Abbiamo ancora tanto da fare Per esempio questa è una delle cose Ah le bollette Pesanti della Ruth di Cara E cioè che Con lei ci sono sempre tutte queste azioni Fare il letto Pulire Badare Cara in questo Entra un po' nel vortice Dello stereotipo purtroppo Però è anche vero che lei è una È una X400 Allora Detroit vuole mostrarti delle condizioni Guardate bene Vedete La scena X non K500 Quindi sì Cara lo sa dall'inizio Ma per qualche motivo Non l'ha voluto Perché lei ha caricato L'ed si è fatto giallo Perché ecco L'ha preso Quando non aveva ancora deviante No 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 Non significa niente Vabbè Lei ha voluto Vedere in lei È un aspetto umano di Cara Lei voleva essere una mamma Potatine Mamma mia Tod Cioè tu praticamente Ti man Tu vivi di Roba cinese Che per l'amor del cielo Pizzà Pizza Patatine E alcolici E poi vabbè Gli spagnoli Poi Ma per esempio Ma che facciamo vedere Lui ha pure la chitarra Quindi delle cose Delle passioni Prima le aveva Vabbè ma sono passioni rimaste Tali Perché lui si è lasciato andare Ciao mamma Meno male Dopo mi racconti Dopo ci racconti tutto Ah piccola premessa Visto di disordini Con formazione Non mi dire Mamma mia Tu pensa che io ho fatto pure l'uovo sodo No io non ne avevo fatto Per lui Piccola intromissione familiare Purtroppo Giochiamo nel salone di casa Perché lì è montata la pièce Io in quel bagno non ci entro Brutto S-T-R-O So che si deve pulire anche questo bagno Ma io sono deviante Il bagno non te lo pulisco Non te lo pulisco Te lo lascio Nella stanza di Alice Questo bagno te lo puliamo Te lo pulisco Perché ci va Alice Solo per questo Ma solo perché Perché presumo che questi prodotti Siano di Alice Un bello caraviglio E butta Pensa a posto Mary Bobbin Dei sincera Sherry Bobbin Sherry Bobbin Ancora specchio Tutti gli android Possono specchiarsi In un vetro Solo Chi sei? La porta Guarda la porta Prima di incontrare Non sposta niente Ne fa una lavagna Lasciala stare Lasciala stare Guarda la porta di Alice Che bella Ah sì Fuori noi da bambini Disegnavamo sul muri E poi Ce lo lasciavano fare Siamo uno strano libido Di tutti i personaggi Devo tagliarla Ma vengo Te la senti di continuare un attimo? No dai Allora Ci siamo ritagliate due ore Per fare questo Oggi si dedica a questo Il colcomer è una cosa a parte No O mi interessa tagliare il colcomer No io almeno un'altra ora Vorrei stregare No no Solo solo tagliare una fatta di colcomer La forza anche qui Mangio con voi il colcomer Il disegno Il disegno Vedi lei è un grande desiderio di libertà Esaminiamo anche Lei piace leggere Che poi è un dettaglio Che nelle nostre versioni personali Sì Mettiamo Sì E il cassettino Che poi Avotressor Probabilmente Quindi Alice Williams Williams È il nome anche della vera figlia di Todd Potrebbe Così come lei È stata chiamata con nome e cognome Per ovvi motivi Deve areare la stanza Venti l'ascosto Si può areare Areggiare Areggiare Infatti mi stavo domandando Che sto dicendo Amichevole A lei serve giusto un altro buon 40 minuti Poi chiudiamo Viste che belli che siamo Non è io Non gli chiedi La madre La madre Va a vedere di fronte Dove sai il fornello Ho fatto una Falta ai fagioli Bellissimo A me così piace A me così piace Da brave A Y400 Prima di iniziare la live Abbiamo Sistemato Cucinato Così diciamo Siamo tranquilli Di trasmetterli Senza il pensiero Di cucinare Cocco Vieni qua Che poi lei Secondo noi È diventata deviante Anche grazie al disegno Perché lei disegna Tutto quello che le succede E infatti è così Che Cara scopre Cosa è successo Che sta lettando Vuole capire chi sei Scostumato Vedi Todd Però guarda Che quando era in forma Stava un po' me E questa è la vera Alice Quindi era bionda Poi noi abbiamo Anche un'altra teoria Che però Renderebbe Todd Ancora più Un disgraziato Ad esempio Vedi qua Lei ha levato il led E ha pianto No E poi lei si è disegnata Col sangue rosso Si vede anche lei Ma si sente anche lei Sbagliata Ad essere una macchina Si 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 Qui già litigavano E lui la colpiva E poi alla fine L'ha rotta Quindi Cara è già E poi Cara è triste Ma Cara È già diventata deviante È morta E adesso C'è una deviante di nuovo Quindi per dire Puoi anche resettarla Lei ormai C'è la mia testa In devianza Non si guarisce No no Per una nostra teoria Lei è la stessa cara di Orion Questo Presuppone Che non è stata Alice A chiamarla Cara O meglio È stata sì Alice Ma se lei già si chiamava Cara Perché si è chiamata così È un suo ricordo È un suo ricordo E la bimba Puoi lasciare la stessa I'm playing Se si ci si Che stavo dicendo Ah sì Però se La cara di Orion È la stessa cara Che poi sta con Todd Si presuppone Che lei In qualche modo La famiglia di Todd Ha qualche legame Con Quindi che lui perde Se questo è vero Il lavoro Per gli android Ed è in tutto questo Anche un parente Di chi lavora La cyber life Lo rende ancora più disgraziato Perché Dovrebbe aver fatto la sua fortuna Con i android E invece No Cosa è che sono cose Che in famiglia Succedono Paradossalmente Quindi Lei si chiama Cara Perché la bimba La chiamava Cara Perché Lei si presenta Come Cara Io non ero fiducia Io non ero fiducia Io non ero fiducia Io non ero fiducia No, questa scena Comunque È molto verosimile Perché in realtà Le persone Che hanno questi disturbi Non è che sono Cattive E che non riescono Più ad avere No Questa è la Persona tossica Che non riesci A fuggirci No Purtroppo Però molte donne Dovrebbe avere il coraggio Di fare quello che fa Cara Vabbè Ma noi abbiamo parlato Durante la sequenza Così per alleggerire un po' Però in realtà È una di quelle sequenze Che quando tu entri La guardi in silenzio Anche per come è recitata Dovrebbe farci interrogare Che ogni tanto Contiamo fino a 5 Dico Prima di dire stronzate Ecco Perché possiamo fare del male Molto più di quanto pensiamo E torniamo adesso Nel paradiso Avevi tutto Hai perso tutto Ma prima abbiamo parlato di Todd E non è un personaggio Che può essere Perché c'è scritto Francuccio Che io non provo Odio per Todd Ma solo tanta pena Allora io sono divisa Perché da una parte Lo detesto come personaggio Dall'altra parte Capisco Il gioco ti mette Nelle condizioni di capirlo Ma Todd Non è giustificabile Comunque Noi siamo Allora Verita la seconda chance No Noi siamo Fautori del nostro destino Comunque lui Non ha reagito A questa condizione Ah qui riflettavamo sul fatto Che è bellissimo È una genialata Fare gli uccelli finti Sì Anzi Pesce e uccelli finti Che non si possono Tanto Che servono Cioè è una crudeltà È una crudeltà inaudita Quella di tenere Gli animali in gabbia Quindi Tanto vale Tenerli android È la stessa cosa Visto che li devi solo Sentire canticchiare Dentro una gabbia Salvo chi non Lì a destra O tipo i crisseti Poverini È per questo Tutti questi animali così Prepariamo prima la colazione Eh sì Noi siamo Noi ci avvantaggiamo già Ecco la giraffa La seconda giraffa della storia Da Connor Non l'abbiamo trovata Eh per esempio Noi tutti i lavori Che facciamo dopo Cioè li possiamo avvantaggiare Anche già adesso Sì lo voglio fare adesso Infatti provo per Per fare Il fioretto primo Ma Marcus Noi proprio ieri Ne parlavamo Quando abbiamo fatto Una registrazione di prova Per vedere se c'era Qualche problema Insomma E questo dicevamo Che in realtà L'intera storia Comunque la fa Marcus Il nostro personaggio Preferito è Connor Però A te no? Sì mi piace Però È Lucio Però Marcus Fa Detroit Diciamo di romano Ma lui è lo schiaffo morale Per l'uomo Ah ok Prima o poi Avremo uno spazio Ho pulito tutto? Sì Sì No lì Lì c'è qualcosa Infatti ricordavo Che raccoglievi i barattoli Mi mancava questa scena Dei barattoli I pigmenti I pigmenti Questa scena Per esempio Ma tu ti immagini A Lavorare Lavorare proprio Ah perché tu lavori Se mi stai un po' So del genere Riesci a lavorare Meno Mamma che bello Andiamo Ed ecco il quadro Che poi troveremo Dai Lajacansky Proprio di fronte a noi Poi ci sono pure Già i teschi Della metempsicosi Lui la morte Se la senta addosso Eh vabbè sì Ma lui la Poi ci vuole Perché Ci vuole Le ben note Coats Ad Heavy Rain Eccola là Eccola L'origami killer Abbiamo Questo è il quadro Di Kamsky Questo viso qui Lo troveremo Questo stesso quadro Nella piscina Cioè piscina La sua piscina Questo è un autoritratto Credo Guarda qua Che bello Il campo Sì 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 In questo La similitudine a Pinocchio Ci sta In questo No diceva Che Adesso capite Perché ho visto Il mito di Pinocchio Così Così come Geppetto Fornisce a Pinocchio La consapevolezza Di non essere Un semplice pezzo di legno Allo stesso modo Carl fa capire a Marcus Che è molto più Di un pezzo di metallo Sì Indubbiamente questo Ma è una cosa Che c'è Ripeto Un po' in tutte le storie Dove i personaggi Comunque evolvono Da uno stato Diciamo primitivo Io sono d'accordo Sì e no Perché secondo me Quando tu vivi Con qualcuno Ma per davvero Che sia Un parente Un amico Un animale Tu gli dai un'anima In quel momento Se tu tratti un cane Da cane Non ci sarà mai Un'intesa Tra te e il tuo cane Sì ma di troppo E invece se ci vivi È un'altra cosa Questo in ogni aspetto Comunque Ma lascia stare Che qui è Estremizzato Ma noi parlavamo Di Poz Non parlavamo Del riferimento Capisci Palese Però che sia Una di quelle cose Già raccontate In delle opere famose Ci sta Perché questa storia È piena Di riferimenti Di riferimenti a opere Classiche Ma che siano Cinematografiche O che siano Classiche Intese come Libri classici È piena Di questi tipi Di riferimento Andiamo a svegliare Il nostro caro Manfred No che c'entra Sto coso Perché non averlo Non lo vorresti Appesso in camera Un bel cocco Non è proprio un cocco Debloccato Sì proprio passi Dalla povera cara Che viene sfruttata E maltrattata Poi acquisti Adesso anche lui è solo Eh vabbè Comunque È sempre la solita cosa Cioè lui è la macchina Comunque La solfe È sempre quella E in tutti e due casi Problemi di droga In tutti e due casi Anzi Deve specificarvi Che stiamo parlando di Carla Lo so È figlio È figlio Ma io ho dato per sottinteso Che comunque Eh vabbè Però tu butti la droga All'improvviso Sì ci sono problemi di droga Anche in questa famiglia Per esempio dei documenti Anche Carlin Ma non si autodistruggere Ha avuto problemi di droga Quindi da questo puoi anche intuire Purtroppo Il suo senso di colpa Sì Carlo per esempio È un uomo molto aperto di mente Eh io penso la Io vorrei cercare di No ma No ma In questo i android Sono Qualcosa di fantastico Perché Voi immaginate veramente Che esiste Qualcuno in grado Di fare questo In realtà Noi siamo perfettamente in grado Non lo vogliamo fare Noi siamo Cattivi Ed egoisti Lui ha tutto Lui ha tutto Carlo Eppure solo Con lui c'è solo Carlo È un figlio che lo sfrutta Soltanto per nome e soldi Infatti evidenzia un dramma L'uomo è Mi dispiace dirlo Da condannare Perché questa storia Indubbiamente molto moralista Ma in realtà Non racconta niente Che non esiste per davvero Anzi Noi vendiamo La nostra dignità A un prezzo Molto basso Per me Facciamo schifo Perché se dico Che sarebbe bello Tramite queste storie Vederle in una Cave didattica Per guardare poi Se stessi E la propria vita E magari Perché no Provare a migliorare Non è mai troppo tale Per migliorarsi Tipo Voi non li vedete Ma in questo momento Non abbiamo i canni Che ci ronzano intorno Dopo faccio la ripresa Della Che prendere Carlo Ah dopo che giochi tu Devi prendere Carlo Sì sì Dopo se ti prendi il joystick Che le faccio riprendere Sì prima di chiudere Lo facciamo Tutte le stanno proprio qua Cuciate E ve le accendellate Una lì E l'altra sul divano Ah noi non ci siamo ancora Accordate sul quadro E facciamo una scelta Ciascuno Una scelta ciascuno Ce la giochiamo a soft No 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 Scacchiera Scacchiera Noi li abbiamo provati tutti Perché qui Marcus può leggere un libro Ed è una delle scelte meno conosciute Almeno che ho meno visto nei video In generale Sì perché lui dice Ci sono delle cose che non riesco a capire Comunque quindi può Aspetta ma c'è un bug Non posso fare niente Ah Oh aiuto Oh aiuto Ah no 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 Dicevo che Marcus può leggere un libro Suonare il pianoforte Oppure la scacchiera Però con il discorso che farà Carlo dopo E sul decidere chi sei La scacchiera Eh la decisione Sì Poi il pianoforte sarà possibile recuperarla come scena più avanti Sì 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 Quindi Comunque vedremo Marcus suonare Perché a me piace pensare a Marcus come Anche un artista anche lui I libri stanno sulla destra eventualmente Ci tengo a dire che ci siamo tolite perché A noi Carlo non ha mai fatto questo commento Forse perché può reagire al canale che c'è in quel momento Cioè dopo che ha detto questa frase e vede lui O almeno io l'avevo riuscita No Di che rimanerà un po' fermo lì Ma lì si è il rottore Ma Carlo è una persona molto Che hai messo? Non l'ho messo niente Perdo? Non l'ho messo niente Non l'ho messo niente Non l'ho messo niente Oh my god io ho disegnato questo no ma io ricordo che quando vedi le prime volte le scene con Carl Carl è un personaggio che dà tanto ecco la scotch ci abbiamo già pulito tutto diretto no loro sono bellissimi si parla tanto del rapporto padre figlio che ci sono diversi rapporti padre figlio in questa storia ma queste a me piace se dovessi dire il mio giudizio questo blu mi fa pensare mi fa pensare come a qualcosa di immerso sprofondato proprio perché ha i colori del mare ma se ci fai caso gli ultimi quadri di Carl non hanno gli occhi perché lui la dice proprio sono un vecchio non ha più niente da dire invece no io ci vedo qualcosa perché per me il fatto che abbia rappresentato questa immagine nel blu quasi come se fosse sprofondata è proprio il concetto dell'abisso dell'ultima cosa che lasci è l'ascolto vedi c'è solo l'orecchio alla fine non c'è più la parola non ci sono gli occhi ma c'è solo quello che ti rimarrà qui dentro poi non ci sono gli occhi ma sembra comunque che il quadro ti guardi sì 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 per questo che ti dico è cosa dire adesso io sto andando quello che ti rimarrà l'ultimo sguardo prima di andare via no l'orecchio mi ha fatto pensare quello che ti rimarrà di quello che ti ho detto capito? quindi è rivolto al figlio paradossalmente o al figlio o a Marcus anche perché no a quelli che l'hanno ascoltato anche ai suoi fan io ci vedo questo l'ultimo per me sì per me sì c'è qualcosa che non c'è qualcosa che non posso definire credo che mi piace la verità è che non ho più nulla di dire ogni giorno che si arriva mi porta più vicino sono solo un vecchio che si tratta con gli occhi Carl ma è sufficiente di me grazie per questo se per noi in un videogame c'è la possibilità di disegnare di fare qualcosa di questo genere poi qua ci toccate sul personale disegnare è il nostro modo di essere devianti anche il cosplay viene da una costola dell'artista allora a sorte il primo che sceglie capoccione? capoccione capoccione rispetto al capoccione allora chi sceglie per prima? per me puoi anche scegliere tu va bene anche perché io per prima che per me questa è proprio la chiave della vita proprio il nostro del disegno questa scena noi l'abbiamo vista come tante altre in famiglia no Carl il mondo come tu lo vedi non com'è oggettivamente poi per lui è importante chiudere gli occhi perché una macchina deve far volare il pensiero che tecnicamente non lo può fare guarda che lui carica sì perché la macchina può spostare questo ok però se non c'è adesso stiamo parlando dell'astratto e in questo momento sta nascendo la città ma non c'è un android identità identità io dico android e disperazione e dubbi io dico dubbi allora non ricordo quale quadro esce non importa sono tutti belli sì è vero vai al che giusto Quello che scelsi io alla prima partita Perché alla prima partita scelsi io E uscì questo padre E a me uscì uno stesso primo piede Ed ecco un altro figlio Che deve trovare Anche lui ha un quadrifoglio Cara ha trovato dentro il tesoro di Alice un quadrifoglio Quindi anche questo è un simbolo ricorrente Come si passa dal figlio Ma ormai ci giochiamo da anni Tre anni interrottamente Ma l'interpretazione degli attori è sempre Un impiato di me Si fa a guardare sempre Tu quel cazzotto te lo meriti Così il doppiatore italiano di Carlo Qui riesce a fargli fare una voce strozzata bellissima Anche l'attore originale ovviamente È bravo Trovo un'infantilità 10.000 Però questa scena in italiano è molto bella Ma no È bella a prescindere No ma in realtà lui quel cazzotto te lo meriti È come l'effetto signor Burns Quando Homer gli dà il cazzotto in faccia In realtà è quel cazzotto nella vita Che ti serve per rigare dritto Perché se tu effettivamente lo picchi Lui pare rigare dritto Pare Almeno con le buone intenzioni Dopo che esce dall'ospedale Perché puoi trovare un video Dove lui parla col padre E qui stiamo Il lista Questo è stato il nostro sfondo Del desktop per diverso tempo E poi c'è Connor Divieto e ingresso ai cani E Android Ti cazzo Due cose che amo Quindi Va Divieto Va E qui ancora questo atteggiamento da soldato Ah qui è bellissimo Perché C'è un aneddoto nella nostra prima partita di questo Che lei ipotizzò Secondo me questo è un boss della mafia Andiamo a vedere cosa diceva Jimmy Effettivamente Lo scanner Questo lasciava presagire Cioè questo Connor Perciò come deviante È un discorso a parte Molto interessante So Prima Sì 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 Voglio far vedere il tipo Ciao Sì ma non ci parlo È anche per esempio Un personaggio che parte purvero Ma secondo noi È Il caso a parte Lui pure se non è il tuo personaggio preferito Lo è Anche se non lo è Lo è È il protagonista Umano della storia No dopo 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 Avanti Volevo vedere il tipo Il tipo nell'angolo Lui diciamo Per me questo fa parte di qualche visca Chissà E infatti se è una legge È lui che diceva che cosa Vammi vedere Spaccio di stupefacenti E infatti sta spacciando E quell'altro di fronte È anche il deviante dei uomini Quello che Disoccupato Ci sta Guarda Pardon Al di là di quello che sei È un personaggio fantastico Va bene 31% Disoccupazione È l'unico che può interagire Un vanitosone Noi non saremo totalmente buoni No pure lui deve reagire Connor ed Aynce Si devono Contrattere Loro però Si devono un po' Tutto Riportare la ragione Io direi Buona idea Sì buona idea Mi spiace anche Ma io qua devo fare Insisti D'accordo è che il Donafonor Nostro che è invitato D'accordo Quindi dovremmo dire Ma che ti fa Sì buona Non si Mi spiace Da di Nostro che vuoi fare Si fa Sì buona 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 Voglio davvero il prezzo Sì buona Però sorride Eh ma quel sorriso Ma questo duo funziona Molto bene E il duo è anche conor E quello che rende poi Alla fine Tra il suo fatto Lui in un mondo Se lo sta scadando Ma lei Mi piace E' bello quando Ci pensa Se fai il Se fai quello educato E dici Sì signore Poi Boom Esce Questo gioco Questo gioco Di luci che hanno Stato qui Per esempio Mi piace No no ma Detroit A livello di Di tutto E vedi che lo sai Allora Non tocchi niente Certo Poi cosa fai Che se è Fai Ehm Ehm Che si tirano gli widi E poi le nuve C'è la fai giocante? Sì che c'è Vabbè, ecco mi scambiare Ecco qua, non mi scambiare No, 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 assolutamente Non tanto non vuole venire, sta con le gambe sotto le gambe C'è le gambe, sta appoggiata sulle gambe Stai insieme la maggior parte del tempo, che non si vedi Stai insieme, non è vero di chiamare tutti in mezzo della mattina Stai ascoltando fino a mattina Stai insieme a tre mesi Non conosce più da quando il coroner arriva C'è una cucina qui qui, probabilmente la scuola C'è un signo di una scuola? Non, il signor ha detto che la fronte d'arriva è fermata dall'interno All'interno ha riportato, la scuola dovrebbe essere fuori dall'interno e i capricci si mettono tutto al divano beh allora i suoi bisognini per esempio questo è uno dei casi secondo me oddio e la tainopoli di Detroit sono tutti bene no, ma il povero Cornelius permettiamo che noi l'android di Ortiz lo chiamiamo Cornelius perché l'attore che lo ha interpretato si chiama Cornelius è un nome troppo bello quindi lui è Cornelius tutto nota veniva dalla cucina questa è un'altra 20-8 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for. Mi piace il cyber life sound. Tipo il comic sound. I'm mentalizing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. I should have warned you. Ok, just... Don't put any more evidence in your mouth. You got it? God. Oh, fucking hell, I can't believe this shit. Quindi si trova. Guarda quel manifesto là dietro. Non è Brandon. Scusami, è come... Nel poster dei buchi. Chris, I want full analysis on the narcotics. No, considerate dumb, don't you? Ma si, usate la mia faccia. Io lo chiediamo. Secondo me è lui. Perché prima quando c'è stato uno zoom su quel manifesto. Mi sembra di dire, aspetta, ma io... Mi sembra... Non lo so perché... Poi è burro qui. Non voglio dire una sciocchetta, ma... Dopo farò il ferma immagine su quella... Su questo manifesto e... Siamo schiavi della porferina. La cazzo di porferina. Mi sembra di fare anche un po' porco. Un po' sangue. Ma qui non... C'è questo livello. Eh, c'è una cosa a terra? Sì. C'è una cosa a terra poi, il sangue. Il residenti qualcosa direbbe qui. Tutto ok. Non c'è nulla da vedere. Tutto ok. Ok. C'è una cosa a terra. C'è una cosa a terra poi, il sangue. Il residenti qualcosa direbbe qui. Tutto ok. Sì. 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 Che poi qui l'android donna. La trisi. Indossa la versione beta di quello che doveva essere la vita delle trisi. Doveva avere delle trasparenze. Aspettavo la versione delle trisi. Sì. C'era... Sangue vicino... Eh. Vicino. Alla porta. Prima andiamo a recuperare l'oggetto piano. Aspetta. 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 A me questa scena piace un sangue. No, ma non si deve perdere. One's keeping the car, you should've been there. No, ma... Ishi not a police. Il in personale. No. Doi è un sottotitolo. The door was locked from the inside. The killer must have gone out this way. There are no footprints apart from, officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks couldta faded. a me le scene in cui i personaggi indagano ma ti parlo di pazia si opera secondo me se facce qualche DLC per riproporre queste scene si poteva fare che vuol dire foreshadowing? ah di quel manifesto dell'evento credo di intuire cosa voglia dire e si è vero cioè che è un anteprima intendi di quello che poi vedremo per logica poi denuncia di quella società che ha solo bisogno di persone che non si lamentino ma pure il fatto che già si parli del Tyrion cioè scusare Dice comunque poi si collegherà anche al dramma di Ant abbiamo notato pure che qui non c'è uno specchio comunque non è mai un buon segno quando qualcuno non riesce a guardare è reale, vedi scrittura ossessiva, te l'ha fatto da solo eh l'avevo intuito per logica però si è vero anche a me piacciono questi rimandi di quello che ancora non è ma succederà e l'altra volta vedi ci ha fatto questo bug adesso tu non puoi più esaminare la scritta però mentre ti piegavi è uscito te l'ho ammesso lo stesso abbiamo avuto questo errore anche l'ultima volta che ci abbiamo giocato allora RA9 ovviamente ormai cioè se li saputo cos'è quel quid anche l'uomo anche l'uomo insomma crede in qualcosa che oltretutto l'unica cosa che non hanno mai spiegato di RA9 è che è un'allaborazione spontanea mentre a noi per esempio noi viviamo in Italia c'è il cristianesimo e quindi Gesù, Dio a noi viene insegnato invece negli android è una immagine spontanea che nasce nel momento in quale no ma aspetta se lo tramandano già e come il concetto c'è ma l'esempio ce l'abbiamo con Luther con Luther tu puoi avere una conversazione con Cara in cui lei gli chiede di RA9 e lui dice ci salverà tutti lui non si sa chi l'ha messo in mezzo i primi devianti no non i primi perché Cara è diventata deviante prima di Luther sì ma è quel quid che non sai chi l'ha messo in mezzo per la prima volta perché poi ti lasciano appunto sottinteso i devianti che esistono da molto più tempo di quanto uno immagina probabilmente oltre dieci anni e Kamsky vi ricordo che è andato via devi dire la prospettiva che deve andare verso il soggiorno sì sì ma è finita è solo lo shock emotivo ora è il fatto che è solo da quello che vedi insomma abbiamo finito? informiamo sta lieutenant ah qui noi abbiamo la possibilità di perdere tempo e Hank ci manda deliziosamente a pagare perché gli facciamo perdere tempo eccolo qua il nostro gigantone è quello che è con la mazza come fanno? la scena che segue questa è un'altra delle scene chiave l'android ha tirato la tela l'android ha pugnalato la vittima qual è? X? no, no, triangolo eh, non leggevo perché c'è stato il nostro quadro triangolo con te eh, lo so lo so no, no, per questo te l'ho chiesto perché non vedevo tiriamo dai, cerchio, cerchio era 9 si accambi no, aspetta, poi ne parliamo no, sennò poi divadiamo in soggiorno tiriamo la scena e poi ne parliamo questo sottintenderebbe una cospirazione di Kamsky quindi che è tutto cominciato per Kamsky con il coltello e per me non è questo dopo ne parliamo però io finisco un attimo la scena no, no, e dopo devo dire un po' e di, è Brian, guardalo bene ma non credo ma non credo ma non credo oh, ma credo tu ancora potresti vedere non ti? corretto no, è il conore ho pensato meraviglioso tornando al discorso di Kamsky leggo tutto il messaggio ovvero lui ha impresso questo concetto nella mente dei vivianti per soddisfare un po' le sue manie di gradiente e il suo desiderio di volere istituzione di obiettore è una spiegazione però sì, però questo presupporebbe che è stato creato tutto a tavolino io invece non sono d'accordo Kamsky però sapeva della devianza lui è rimasto scioccato di quello che ha creato per noi il dottore che c'è dietro la creazione di Cara è un Elijah Kamsky giovane di essere so conto di aver fatto qualcosa di grande che avrebbe cambiato il mondo per sempre l'ha studiato la devianza la cyberaispe lo ha scoperto e lo ha punito per noi e poi lui è andato di là sì, però intendo che la spiegazione che ci sono tante spiegazioni questa è la mia versione mica io dico la più banale è quella che R9 dicono che scomponendo il gioco con quelle cose di hackeraggio che la gente sa fare ma queste sono quelle cavolate che non ci accettano niente intendo che noi giocatori siamo R9 cioè siamo quel quid che guida le azioni quindi è un concetto metaforico in questo senso cioè che è R9 siamo noi che facciamo le scelte e che in realtà siamo dietro allo schermo ma tecnicamente Dio ci avrebbe dato il libero arbitro quindi è vero ma entrando nel gioco si Kamsky è tra le figure candidate a essere ma tra poco qui ci sarà una delle scene che io ci feci anche un post su internet e c'è il preludio di come cambierà la concezione di conno sui devianti perché qua vedi un'ombra e poi la lì e cosa vedi tu quando vedi una macchina perché qua dietro c'è solo un manichino ora e dopo vedrai il deviante per me è proprio open your eyes in questo momento in questo momento tu vedi ancora questo tra un po' tu leggerai l'anima di tutte queste persone e ci sono molte scene nello scenario di Conor simili in tutti gli scenari con tutti i devianti lui avrà questo momento dubbio morale it's time to decide il tema ricorrenze di Conor al di là di tutto di quello che lui sarà ma di tutto sì ma Conor è quello che cambia però solamente è la macchina lui che è quello proprio la macchina che è proprio la devianza si vedi da dietro ok Ok, e niente, io penso che stiamo per vedere una delle scene più importanti, io penso che l'interrogatorio di Cornelius, perché per noi lui si chiama Cornelius, sia una delle scene sempre chiave di questa storia. Ah, il fatto della cantina di fatto, allora guarda, io sono una gran fan dei Simpsons e io praticamente vedo un Simpsons ovunque, ti faccio un esempio, quando ora ci sarà la scena che tu puoi dare un cazzotto a Leo, infatti questo dico, mi immagino Marcus rannicchiato, che dicono, Marcus, cosa è successo? E lui che dice, nulla, loro tranne che ho dato un cazzotto a Leo, lui, forse non l'hai ucciso, forse ne sono ferito mortalmente. Insomma, quella stessa scena io ormai me la autoparonizzo con questa scena di Homer e il Sigur Berlus. Allora, rimaniamo un attimino in attesa, in attesa che viene mia sorella, eccola qui che arriva, la nostra AIS 400 in minigonna, io no invece, io indosso il pantalone, io me lo sono messa, perché ripeto, qui siamo al 26 luglio, io tengo una maia collata, il pantalone, la giacca, la raccondizionata, sì, ma mi sono vestita così a luglio, il 26 luglio. Passa cane, ara, facciamo vedere pure l'altro cane, ara, ara, ah, tengo io, ara, scusate, si è tirata la zampina. No, ma la fai impigliare, la fai spaventare. No, ara, ara, ama partecipare alle cose. La fai impigliato, allora giacca. Allora, noi che vogliamo fare? Ah, Ele Noir, citi un'altra perla, Ele Noir, stupendo, stupendo Ele Noir. E poi quelle scene, quel finale, bellissimo. Ele Noir è un altro di quei giochi che forse non si può portare tanto in live, perché sarebbe molto lungo, quindi dovresti dare la disponibilità di un tempo molto lungo, però è un altro di quei giochi che sarebbe bello portare in live. Almeno a me è piaciuto, non a tutti è piaciuto, a me tanto. Io sono impazzita dietro Ele Noir, veramente tanto. Però ammetto che quello si deve fare con un minimo di guida, perché sbagliare gli interrogatori, con le facce che spanno... Indovina dov'era? Dov'era. Dentro le piante. Ovviamente. È grosso! Amore mio, il mio essere, il mio amore, il mio amore eterno. Fa vedere come sei bello. Eccola là, eccola là. Sto addormentata. Dormi. Anche a me. Questa è la sciocococca in realtà. La mio amore, non ti sembraccio solo perché il cosplay purtroppo rischio di rovinarlo, ma normalmente noi ci spupazziamo. No, figurati. E ora, ora vado a riportare. Parlano del finale di Ele Noir, idem. Per me il salto di qualità l'ha fatto proprio quel finale, che nonostante sia, come dicevi tu, crudo, è pazzesco. È pazzesco. No, quel gioco. È pazzesco. È una storia più matura di quello che non sembra, eh. Gli anni 40, gli anni 50, li ha proprio... Si parla di avere un abito. Ti do le cuffie, parliamo. Allora, noi che vogliamo fare? Altro capitolo? Quale capitolo ci aspetta? Cara che si ribella? Lo vogliamo fare perché sono le 11.45. Vogliamo fare queste che interrompiamo? Quindi facciamo Notte Tempestosa e chiudiamo? Direi di sì. Notte Tempestosa e chiudiamo, sì. Volendo, c'è l'alternativa di Cara che cerca di combattere con la lampada. Ah, noi non raccoglieremo la pistola perché, come abbiamo già discusso prima, Todd è negativo, ma secondo me non merita di morire. C'è ancora un barlume, secondo me, in lui. Piccolo, ma c'è. Todd forse incontrando le persone giuste, chissà. Il dinner è pronto. Sì, sì, è venuto. Voglio fare una piccola premessa. Siccome a noi piace una lotta un po' più turbolenta tra Cara e Todd, noi appositamente sbaglieremo qualche cosa nel combattimento senza far morire Cara, ovviamente. Posso già pensare? No. No, devi prendere gli spaghetti. A me piace anticipare. Altro che spaghetti alla rosa, spaghetti alla Cara. Che sembrano tutti scotti onestamente Cara, non sono grandi più. Secondo me in casa ha più di una pasta di quelle schifose e un sugo precosto non c'era. Sono... Sono... No. No. Altro aiolo. Solo a Dani. No, lo devi mettere tutti e due. Solo a Dani. Lo devi mettere tutti e due. Ah no. Io non ci do l'acqua. Ho perduto il mio lavoro perché gli androidi. Vabbè. Ma solo perché io sono... Bimba. Bimba. Sì, è piano, un po' stop. Ecco, vedi, pure lui si sente contraddittorio. Anche lui. Di ficca, mio Dio, scusate, ma una colonia di gatti, capitemi. Io avrei una colonia di gatti. Se noi vissimo in un appartamento avremmo una colonia di gatti. Siamo con te. Perché qui abbiamo tutti gli animali. Ma il gatto è. Perché purtroppo queste persone hanno bisogno di sfogarsi. Avvero non si carica un barbile. E ovviamente, chi non riesce, è debole. Che c'è? Maybe you think it's my fault living in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop drinking drugs, Todd. Sometimes you want to scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking account. Che c'è non diventi deviante con lei in questo momento se è una persona che non ha un cuore. Se proprio non ce l'ha. Questa, l'antisa è io. Come back here? Come back here right now! Tu vuoi provare a ragionarci? Ma non ha senso. Ma che ci ragionerebbe? Cioè, ci lasciando di dove lei si rende conto che c'è qualcosa per la quale... Io vorrei tanto al velo di cospe riuscire a rappresentare questa cosa. Ma no, questa è vita reale. Quante volte io penso che noi tutti... Cioè, vedi, lei è immobile. È tutto dentro che sta succedendo. Ma questo muro è vero. Io penso che tutti noi nella nostra vita, almeno una volta, abbiamo avuto questa sensazione. Io l'ho avuta. Sì, quello che nella tua testa sta succedendo di tutte e tutte cose. E tu stai cambiato, in quel momento tu sei cambiato. È uno starghetto, è cambiato qualcosa. Allora, io nella vita reale devo essere onesta, proverei a ragionarci. Ma se mi identifico in cara invece, no. Il mio reale pensiero ha un po' soffietto. Io correrei subito sapendo cosa c'è in camera di tolto. Io però sai cosa avrei fatto? Prendi la pistola, ma nascondila, non usarla. Il problema è che se prendi la pistola, o Alice, esatto, o Alice o cara, chiudiamo la pistola. Non so se la posso già chiudere di mia iniziativa. No, io voglio capire. Allora. Siamo, e poi mi la dice. Scappa con Alice, chiudi tu. Capito Alice. No, 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 così si fa. Mi devo levare i miei libri. Di sconto. Se vuole trovare qualcosa. Alice, abita questa sua bambina. No, Cara, ci siamo sarì. È il solo modo. Corita, e adesso. Acasso, ecco. Cara! La tua parte è gamma. ma io sono in realtà non lo devi col piede riserva perché vogliono continuare giù lei non muore no guarda che puoi morire allora mo allora mo devi combattere la lampada la lampada non ha quella ma non quello di sapere la lampada la lampada la lampada Se qui hai la possibilità di avvicinarsi lo sai? No Vedi? Sta Lui si può avvicinare, se per i tempi qui Vedi non ha capito niente, lui continua Non ci ho mai capito, non è stato vero, non è stato vero Come back here! Musica Tu fui, è vero Se me fichi da un sospigli, io sarai un ramide, che sarai quella notte che cambia la tua vita penso che non ci sia niente da dire c'è questa scena è quello che in molte case dovrebbe succedere perché queste sono situazioni reali reali non è troppo tardi per chiedere scusa per io ce ne immagino care in un futuro infatti anche non so parlare con un marcus con un conere dire da ogni giorno a un incubo e penso a tutto quello che poteva succedere quella notte perché io penso che cara dopo la storia tra quello che ha vissuto dopo nei campi quello che succede a gerico quello che ha vissuto qui da slaco lei qualcosa che avrà sicuramente una fortissima ripercussione su quello che lei è a questo punto diventiamo devianti pure con marcus chiudiamo il cerchio delle ribellioni allora scelta importante io questa scelta sono divisa perché per me sono valide sia la morte di carl sia invece la sua sopravvivente io credo che sì sì ti capisco sul fatto della pistola però sono onesta lui non merita di morire anche perché ti perdi se non la scena vicino alla stazione degli autobus che credi mi vale la pena noi non la porteremo nella nostra live quella scena perché abbiamo scelto un'altra route però per me todd è crudele ma comunque ma non da morire dove è da scotch liscio assolutamente quindi che facciamo con carlo ok sono d'accordo io penso che ci ripeto sempre per dire le stesse cose la cosa che proprio dallo schiaffo dei sentiti dai uomini che per me la violenza è una risposta la morte invece loro sono in grado di usare il cervello le loro potenzialità io se penso a marcus penso che marcus darebbe un cazzotto all'io però sono d'accordo con te la scena che poi dopo avremo è una scena che insegna tanto si lo so però quella scena in particolare leo perché due sono due due euro o marcus si rende conto come si può essere la violenza e per questo che diventa partitista oppure vedere per lui non reagire insomma dobbiamo scegliere che tipo di marcus ma partitista e allora questo può essere l'unico gesto di violenza che lui ha e cazzotto sia in chi va leo don't make this difficult listen to your father you need to leave now anche perché c'è un risultato positivo dietro questa scena come no come no come no come no come no come no come on let's see what you got marcus don't defend yourself you hear me don't do anything go ahead hit me what you waiting for think you're a man act like one stop it's the matter too much of a pussy stop it leo stop it's here to fight back you fucking bitch non devo dirvi di me mi sono improvviso il cito e devo dirvi poi guarda che violenza che ho detto non lo vedete non lo vedete non lo vedete anche perché si sa che perde le stappe e non se ne rende conto che ora è diventata realtà e quel muro l'ha rotto perché lui lo stava già prendendo a funghi mentalmente ho capito? quindi se te la immagini così come scena che non ti ho reso conto di avere libera quando è passato dal pensiero al pombo perché lui l'ha fatto in questo momento anche però dallo stuporato tanto però il braccio di un rk200 permetto che per me questa scena non esisterebbe se non sapessi che io in realtà non vorrei premetto questo se non per me non esisterebbe questa scena non lo vedete in un secondo ha perso due figli ed entrambi si spera rinascano dalle loro ceneri perché entrambi in effetti rinascono dalle loro ceneri dopo questa scena ma c'è un modo per interrompere e mettere il nostro schermo? no, deve rimanere così perché è la prima live che facciamo quindi io non so come funziona e quindi ci interrompiamo qui con Marcus e Cara che diventano devianti e Connor che ha l'interrogatorio con il suo primo deviante è oggi pomeriggio? no allora no anzi noi oggi dobbiamo fare il vaccino sono state convocate tutte e due se torniamo abbastanza presto si fa comunque la lama avevamo programmato alle 5 ma non ce la faremo mai perché alle 4 dobbiamo andare però può darsi pure che verrà posticipata di poco io comunque metto un messaggio se riusciamo se no ci vediamo domani mattina o era domani pomeriggio? mi pare domani pomeriggio avevamo detto no era domani pomeriggio sì alle 17 eventualmente e niente ci sarebbe in realtà tanto da dire in questa storia veramente c'è ogni scena in realtà offre l'opportunità di esprimere dei pareri non solo sulla storia in sé ma proprio il messaggio che racchiude quindi ma infatti per chiudere la parentesi Carl vivo o morto non è la questione voglio far vivere o no al personaggio ma è il messaggio che traspare dopo perché nel caso in cui tu salvi Carl è bellissimo quando avremo la possibilità di parlargli di nuovo e scoprire anche che il rapporto col figlio si sta un po' recuperando d'altra parte anche la scena in cui Carl muore è bellissima perché c'è l'android che va a parlare con una tomba e poi si incrocia con Dio quasi a dire già io sono ancora qui no è bello perché poi Marcus da ogni sua scena la dimostrazione di quanto lui supera l'essere materia quindi proprio l'ultima cosa è proprio parlare con l'anima ecco e quindi per questo ti dico che io è il leader che ci vuole nella vita infatti queste due scene questo bivio è uno dei pochi di questo gioco dove io non so scegliere io se mi si chiedesse ma per te in questa scena Marcus che fa? per me è canonico purtroppo che lui stia fermo io invece no io perché trovo canonico che lui reagisca ma mi piace molto anche la scena che lui appunto visita la tomba quindi non so ancora oggi dire quale scena per me è canonica ma noi abbiamo scelto questa ma entrambi hanno un significato come volevamo provare a dire e niente allora grazie a chi ci ha seguito chi ci seguirà perché poi caricherò anche il video su non so se ci saranno stati errori tecnici come ritorni di voce se la voce è bassa per il microfono queste sono cuffie da cellulare è un tentativo di prima live e lo vogliamo portare fino alla fine perché questo è il gioco che più desideriamo portare completamente cercheremo anche di portarlo su youtube così che possa rimanere lì anche e allora ciao a tutti e ci vediamo all'interrogatorio allora diciamo oggi verso le 5 e 5 e mezza probabilmente non ce la faremo mai le 5 e mezza rimaniamo che non si fa rimaniamo per domani alle 5 del pomeriggio caso mai invece dovessimo fare prima manderemo un messaggio su twitch cercate Fiamma Price e su twitter volevo dire e lì cercheremo di farlo sapere entro un'ora prima ovviamente se invece riusciamo a farlo stai tranquille per il bacino è tutto bene ah grazie è chiuso no non ho chiuso no invece si è chiuso ecco perché? no non avevo chiuso ok ritornato scusate no volevo solo cliccare dicevo grazie per per l'aguro per il sostegno no invece siamo contenti perché era ora era ora un po' di preoccupazione ce l'ho ma è quella preoccupazione umana che credo che bisogna avere quindi ritornando un po' di paura mette prudenza certo ma si deve fare quindi dicevo che tornano alla live rimaniamo per domani alle 5 caso mai invece cambiano i orari il twitch suo che lo segue di più quindi chiama Price a giorno tutta ciao a tutti ciao ciao